Cosa c'è? Hai visto le occhi, le galline? Dove vuoi andare tu? Non si può entrare, non puoi andarle trovare. Caprette, Murruidda. La campagna è quel posto in cui le galline vanno in giro crude. Fottorie Murruidda. Eccola qui. Sei troppo bella, guarda, guarda, è tutta gialla, sembri uscita da un cartone animato. Sì, sembri uscita da un cartone animato. Che bello questo posto, è spettacolare. E' davvero bellissimo. Dove siamo noi là? Hai visto Olly? Eccoci. C'è anche la mia stelli, dopo la porto così mi fanno amicizia. La tua cagnolina? Sì, sì. Spiega, 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 spiega. Allora, questo è il tutto vegetariano, quindi abbiamo verdure grigliate, tutte del nostro orto. Poi abbiamo le cipolline sotto accetto, sotto olio. Poi abbiamo le marmellate fatte da noi, di mirto, di bacche di mirto. Marmellata di prugne, marmellata di albicocche, formaggio pecorino, formaggio bovino, ok? Grazie, grazie. Formaggio oggio è lo stesso bene. Qui invece abbiamo, questo è più complicato. Questo è completamente vegano, senza derivati del latte, latticini, derivati animali, niente. Polpettine vegane, a base di verdure e legumi. Non si può avere le patate anche di qua, no? Affettato di seitan. Poi abbiamo patatine al forno, poi abbiamo pomodori secchi, toffo affumicato, marmellate miste, formaggio di olio di cocco e altri derivati vegetali e sempre formaggio affumicato vegano, quindi potete sbizzarrirvi. Sei fantastico. Accompagnateli con le marmellate. Ogni tanto fai qualcosa di buono, di meraviglioso. In un bellissimo ristorante dove si mangia molto bene, vegano e vegetariano. La presentazione del cibo è qualche cosa di spettacolare. Ma pomodori dopo che teme lei fa in un certo modo. Complimenti. Questo è Muruid, questo è un agricoltorismo normale, però è anche vegetariano e vegano, perché lei, Simonetta Spiri, che è una cantante bravissima, cantautrice, è vegetariana. Questo posto è fantastico. In base a quello che si decide. È una roba bellissima. Ed eccola lei, vedi? Cosa ci hai portato? Ci ho portato delle frittelline di zucchina e farina senza derivati animali. polpettine di ceci e erbe aromatiche con pomodorino fresco e basilico, che ho fatto con le mie mani. E questo? Queste invece sono di lenticchie semi misti, polpettine cotte con un po' di malvasia. Giusto per avere un po' di sapori di Sardegna. Grazie. Prego. Allora, questa è l'alternativa alla ricotta, quindi è tofu cremoso con abamele. E questa, con dei italiani, è ricotta con abamele. L'abamele è appunto a miele caramellato con la scorza d'arancia. Prendiamo qua. Buonissima. Buonissima. Non lo conosco ma solo. Io lo chiedo di accontentare anche voi con il tofu cremoso. Buonissima. Me la metto solo mia madre. Allora. Per la prima volta nella storia di Muruida abbiamo sperimentato la zuppa gallurese vegana. E come è fatta? Abbiamo utilizzato il pane fresco, il formaggio di soia, quindi formaggio senza derivati animali, menta e cipolla tritate, poi l'abbiamo cotta in una teglia al forno nel brodo vegetale. Anziché il brodo che si trita solitamente. Grazie a te. Simonetta, che cos'è questo? Questo è couscous biologico di semola integrale con verdurine croccanti e crema di basilico, pinoli e olio extravergine delle nostre olive. Ma basta. Sì, però basta. No, mamma mia ragazzi. Io spero sia l'ultimo piatto perché è tutto buonissimo. Abbiamo ancora i ravioli. E poi vi portiamo le insalate fresche, dai qualcosa di insalate fresco. Proprio gallurese di ricotta e menta con crema di zucchine. Poi ci sono i vegani, arrivano i nostri vegani. i voti sono di ceci e bruccoli se non sbaglio. Minacci olive con crema vegana di zucchine, sempre dal nord. Tre anni. Adesso Alberto sta già analizzando Simonetta a base ai numeri, numerogia, un artista. Gnocchetti fatti in casa, fatti di pasta fresca con un sugo vegetariano ovviamente a base di pomodorini, carota, radice di curcuma fresca e un pizzico di zenzero. Un piccantino come il sugo rimane. Se non li mangiamo li portiamo a casa. Se non li mangiamo li portiamo a casa. Io ho preso molto che vi piace lo zenzero e la curcuma. Io ho voluto mettervela proprio perché io ci vado matta essendo appassionata. Prendo proprio le radici fresche, le grattugi. Sono buonissime. Ti tiene un po' il dito però. Selli, calmati. Amore della mamma, guarda che c'è. Ma chi c'è? Ma chi c'è? Ma chi c'è? Sceglie la mirata di Oli. Adesso mi spiaggerò del virgo. Non c'è più bisogno. Eccola libera. Brava Oli. Mi schiaccerò benissimo. Hai visto? No. Oli stai indietro. Ma sai perché? Perché lei è legata. Ci sono tutte le tue libere. Oli stai indietro. E cos'è? Una femminuccia? E allora non vanno d'accordo. Sì, no. Selli va d'accordo con tutte le altre. Ma la Oli non tanto. No. Selli ha detto che Oli vuole saltarle addosso. Oli ti metti un bacio eh? No, 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 no. È proprio un bacio. Ma Oli canti morde. Ma lascia libera. Fatima. Se la lasci libera. Se la lasci libera. Ho paura che le faccia morte. No, non ci fai. No. Lascia. Si sono legate. Che si fai? Selli fai da tranquillo. Ecco vedi? E adesso sono libera. Vedi? Ecco adesso giocano. Selli calmati perché lei è una giocherellona proprio. Guarda le orecchie. Selli ti piace Oli eh? Guardala. Guardala. Amore. Brava Selli. Stanno facendo spettacolo praticamente. Intrattenimento. Guarda le orecchie della Oli. No, mi sembra che ti stiano divertendo. Selli. Con tutte le cagnoline. E' molto socievole. Perché assorbe l'energia della padrona. Perché assorbe l'energia della padrona. Tanti le dicono che è una grande portatrice d'amore. Infatti io sono contenta. Dico sempre la mia soddisfazione. E' molto bene. Ma Oli? Questa con le orecchie dritte così. Oli? E' un pupazzo praticamente. Selli? Lasciala in pace. Lei è dominante quindi la vuole dominare. La vuole dominare. Perché lei è una cagliorina dominante lei. Sì è come l'altra mia Jack Russell. Che cerca sempre di dominarla. Però se è lì. Ah c'è un Jack Russell? Sì. Sì anche un Jack Russell. E' vecchietta adesso. Però è sempre. Ha sempre un bel caratterino. Patate al forno. Un letto di pane. Cutiare il piofo alla piazza. Non è possibile. Dovete parlare con Simo. E lei che ha fatto tutto. Pesche, verdure dell'orto. E le pere anche Simo. Ma ti avevamo detto basta. Eh sì però per chiudere in belletta dai. C'è anche i fichi. Sì è molto buono. Ma sei tu che fai quindi quei disegni Simonetta? Sì sì. Queste sono le camere. Che belle. È molto. Piscina. Ah sei tu allora che fai i disegni. Sì ho messo pure le mie iniziali. Con il cuore, l'arco e la friccia. Che è un simbolo che c'è sulla copertina del mio album. È un po' buio. Che c'è il cane. Allora sia l'onogesto che c'è il cane. P Wars. Tu nel cuore c'è il cane. Si muovei i torti più rischi Già moderare come famiglia da l' symptom.